Animal Malena Malena, al secolo Filomena Mastromarino, è nota al grande pubblico di Canale 5 per aver partecipato alla dodicesima edizione dell'Isola dei Famosi. La ragazza di origini pugliesi è molto piaciuta al pubblico, mostrando un lato di sé molto dolce e affettuoso con tutti gli altri naufraghi in gara. La giovane ha dovuto dimostrare ai telespettatori di essere, come lei stessa ha raccontato, semplicemente Milena e non Malena. Per chi ancora non lo sapesse infatti, la Mastromarino è una delle mose di Rocco Siffredi, il re del mondo dell'art. Malena, prima di partire per l'avventura in Honduras, ha girto il suo primo film a luci rosse proprio accanto a Siffredi, e una volta rietrata in Italia è diventata insegnante nella famosa Accademia del Porno del Divo Hard, a Budapest. La ragazza dunque ha scelto di partecipare al reality estremo di Canale 5 proprio per dimostrare che oltre il suo lavoro c'è molto di più. L'intento della giovane è stato raggiunto perché Malena infatti si è guadagnata ai favori del pubblico e la semifinale del gioco. La Mastromarino inoltre ha partecipato a diverse trasmissioni tv dopo la sua partecipazione all'Isola, dal salotto tv di Barbar d'Urso a quello di Silvia Toffanin. Malena però non ha certo perso la sua verve provocatrice e birichina, tanto che spesso sui social posta numerosi scatti bollenti per la gioia dei suoi fan. In una recente Instagram story in particolare, la donna si è immortalata completamente nuda, con le parti intime coperte solo da una emoja a forma di farfallina. . .